Benvenuti a tutti, non abbiamo il microfono quindi spero che vi faccia sentire in fondo. Io sono la Presidente della Rotary Adda e vi do il benvenuto a questo pomeriggio al concorso di Telecardi Visite. Allora, è un concorso che abbiamo organizzato in memoria di un nostro socio, Gianni Cappani. È stato un socio fondatore, uno dei soci fondatori della Rotary Adda, è stato presidente del club, è stato consigliere e doveva essere anche il mio consigliere per quest'anno del mio mandato. Purtroppo le cose sono andate diversamente. Allora il club ha sentito da subito la necessità di organizzare un evento che si potesse poi ripetere negli anni in memoria del nostro socio. E così è nata questa idea, l'idea di un concorso di Cardi Visite. Di cui lui era un collezionista, aveva tantissime... Raggiunge la parola competente. Competente, molto competente. E quindi ecco di qua l'idea, il punto che lui si è compilizzata. Allora, come omaggio a Gianni, oggi abbiamo creato un video. Perché con la fotografia Gianni poteva cogliere dei momenti, fissarli e poi li custodiva. Però Gianni aveva deciso che alcune di queste immagini erano forse importanti per lui condividerle. Per cui entrando sul suo profilo di Facebook, ho recuperato una serie di fotografie, di immagini, di momenti, che lui ha voluto condividere. E che io in questo pomeriggio voglio condividere con voi, per farvi vedere Gianni sotto tre aspetti. Come rotariano, come collezionista e come uomo. Quindi nel vedere il video, io sono sicura che chi ha avuto il piacere di conoscerlo, sicuramente lo ricorderà. Diversamente gli anni, grazie gli altri, hanno un modo di conoscere qualcosa di lui. Prego. Grazie. 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 Grazie a Gabriele per proseguire il concorso. Grazie a Gabriele per proseguire con il concorso. Grazie.